Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione che muove i primi passi nello studio delle frazioni. L'argomento frazioni viene già normalmente trattato alla scuola primaria, ma per evitare che qualcuno non ricordi concetti importanti o che magari appunto per esigenze di lavoro con i maestri non abbia potuto affrontare questo argomento, ripartiamo proprio da zero e muoviamo proprio i primi passi insieme. Una frazione ragazzi è una scrittura a due livelli che come vedremo successivamente in realtà è un altro modo per rappresentare una divisione, ma questa scrittura a due livelli si compone di un numero sotto, vedete che prende il nome di denominatore, ed ha un'indicazione del numero delle parti uguali in cui è diviso l'intero. Il numero sopra che prende invece il nome di numeratore indica il numero di parti che prendiamo in considerazione. Le frazioni possono essere rappresentate in modo molto efficace graficamente, infatti noi vedete abbiamo rappresentato qui un rettangolo composto da altri rettangoli, il grande rettangolo che vedete quindi quello rappresentato dal contorno maggiore è stato suddiviso in quattro parti, quindi ecco perché noi possiamo parlare di quarti e nell'esempio che stiamo facendo ne prendiamo in considerazione tre. Ecco quindi il numeratore, il significato di questa frazione in termini grafici è quindi proprio di tre parti su quattro parti in cui è stato suddiviso l'intero. Quando numeratore e denominatore sono uguali, come in questo caso due mezzi o tre terzi o quattro quarti, la frazione equivale all'intero, cioè equivale al valore di 1. Graficamente si può rappresentare questa situazione andando, qui siamo passati ad una rappresentazione attraverso dei cerchi, ad esempio a suddividere il cerchio in due metà ma a considerarle entrambe, ecco perché due a numeratore mezzi parti in cui è stato suddiviso l'intero. La rappresentazione alla vostra destra invece è una rappresentazione della frazione quattro quarti. Ho suddiviso l'intero in quattro parti uguali e le considero tutte e quattro. Queste sono scritture equivalenti all'intero. Ripassiamo ancora il concetto di frazioni complementari. Due frazioni si definiscono complementari quando messe insieme, come in questo caso, formano un intero. Vediamo meglio. Allora la frazione rappresentata alla vostra sinistra, vedete, rappresenta quattro parti di sei parti ideali in cui è stato suddiviso il cerchio, cioè l'intero, e quindi la rappresenteremo con la frazione quattro sesti. Delle sei parti in cui è stato suddiviso l'intero ne abbiamo prese in considerazione quattro. La frazione rappresentata invece alla vostra destra, per analogia, rappresenterà due sesti. Se l'intero è stato suddiviso in sei parti, noi ne prendiamo in considerazione due. Ecco che allora quattro sesti e due sesti si definiscono frazioni complementari perché se io le metto insieme ritrovo l'intero, ovvero sei sesti. Le frazioni possono offrirci spunti di riflessione anche piuttosto golosi. Allora guardate in questo caso, abbiamo una bella pizza. Se in una pizza noi andiamo a tagliare una fetta come potete vedere nella figura, abbiamo realizzato due frazioni complementari. La pizza che resta ancora da tagliare rappresenterà i tre quarti del totale, la fetta in questo caso che abbiamo tagliato un quarto del totale. Tre quarti e un quarto sono di nuovo due frazioni complementari perché se messe insieme riformano l'intera pizza. Un altro argomento estremamente importante è il confronto tra frazioni. Parlare di confronto tra numeri o tra frazioni vuole indicare, capire quale dei due è maggiore, quale è minore o eventualmente se sono uguali. Allora immaginiamo di voler confrontare le frazioni tre quarti e quattro sesti per capire quale delle due è maggiore. Allora come si procede? Si può partire ad esempio dalla via grafica andando a rappresentare la frazione tre quarti nell'esatto modo che abbiamo appena visto, ovvero rappresentiamo un intero, lo suddividiamo in quattro parti uguali, ne prendiamo in considerazione tre. Se però noi vogliamo rappresentare in maniera efficace la seconda frazione, quattro sesti e quindi poterla confrontare con la prima, abbiamo bisogno di rappresentare un secondo intero esattamente delle stesse dimensioni del primo. Quindi vedete che il rettangolo grande che rappresenta la seconda frazione è identico al primo rettangolo, quindi entrambi rappresentano l'intero. In questo caso però dobbiamo suddividerlo in sei parti uguali e prenderne in considerazione quattro. Semplicemente confrontando le aree del rettangolo rosa con quello del rettangolo giallo ci rendiamo già subito conto che il rettangolo giallo è più grande, quindi possiamo affermare che la frazione tre quarti è maggiore della frazione quattro sesti. Un'altra efficace rappresentazione per effettuare il confronto tra frazioni è la rappresentazione sulla semiretta orientata dei numeri. Allora ragazzi vi ricordate la semiretta è praticamente appunto quella retta che parte da zero e che rappresenta le varie unità ad intervalli regolari. Allora in che modo si può utilizzare questa rappresentazione per il confronto tra frazioni? Ebbene rimaniamo sempre sulle frazioni tre quarti e quattro sesti. Allora per rappresentare e per andare a collocare sulla semiretta la frazione tre quarti dobbiamo suddividere l'unità cioè il segmento tra 0 e 1 in quattro parti uguali e allora lo facciamo semplicemente ad esempio con il righello per cui andando a collocare tre trattini come potete vedere in maniera da suddividere questo segmento tra 0 e 1 in quattro parti uguali. La frazione tre quarti si collocherà quindi in questa posizione. Se sulla stessa semiretta dei numeri vogliamo rappresentare anche la frazione quattro sesti dovremo procedere facendo che cosa? Suddividendo lo stesso intervallo 0 e 1 in sei parti e quindi andando a collocare come potete vedere sopra cinque trattini che mi permettono di avere 1 2 3 4 5 6 segmenti uguali all'interno dell'unità. Allora la frazione quattro sesti andrà collocata in questa posizione. Ci possiamo subito rendere conto anche con questa rappresentazione che tre quarti si trova spostata più a destra quindi possiamo affermare che tre quarti è maggiore di quattro sesti. Le ultime definizioni che andremo a ripassare sono quelle di frazioni proprie, improprie e apparenti ma vediamo bene di che cosa si tratta. Allora quando noi ci troviamo a rappresentare una frazione di questo tipo e per via grafica ormai avrete ben capito questa rappresentazione è quella della frazione quattro parti su sei quindi quattro sesti abbiamo una situazione ben definita ovvero il numero delle parti considerate è inferiore rispetto al numero delle parti in cui è suddiviso l'intero ovvero il numeratore è più piccolo del denominatore. Quando una frazione ha questo aspetto quindi il numeratore cioè il numero sopra più piccolo del denominatore cioè il numero sotto le frazioni si definiscono proprie. Quando invece abbiamo una situazione in cui rispetto al numero delle parti in cui l'intero è suddiviso ci troviamo a considerarle tutte e quindi tutte le volte in cui il numero delle parti considerate è uguale al numero delle parti in cui è suddiviso l'intero oppure un multiplo delle parti in cui è suddiviso l'intero quindi ad esempio 12 sesti 18 sesti e così via allora ci troviamo di fronte ad una frazione apparente. Perché questa parola apparente perché questa in realtà non è proprio una frazione ma è un altro modo per indicare l'intero infatti sei sesti rappresentano tutto l'intero se io invece avessi avuto 12 sesti avrei avuto due interi e quindi ricordatevi le frazioni apparenti si riconoscono perché il numeratore cioè il numero che è scritto sopra è uguale oppure un multiplo del denominatore. L'ultimo caso che prendiamo in considerazione è quello delle frazioni improprie. Partiamo questa volta però dall'osservazione della frazione ad esempio 10 sesti. Allora che cosa si può osservare in questa frazione? Che il numero delle parti considerate è più grande rispetto alle parti in cui è suddiviso l'intero ok? Cioè il numeratore è maggiore del denominatore. Quando ci troviamo di fronte a una frazione di questo tipo la difficoltà è immaginare come rappresentarlo. Immaginiamo cioè di avere una torta e di averla divisa in sei fette però gli invitati che arrivano alla festa sono dieci. Ecco io come faccio in questo caso? Per mantenere uguali le dimensioni delle fette avrei bisogno di utilizzare tutta la prima torta ma a questo punto avrei servito solo sei dei miei ospiti ma di prendere anche una seconda torta e quindi di ricavare le altre quattro fette delle stesse dimensioni delle prime in una seconda torta. Ecco tutte le volte ragazzi in cui noi abbiamo bisogno di considerare più interi per rappresentare la frazione ci troviamo di fronte ad una frazione impropria. Dieci sesti equivale ad un intero più altre quattro fette. Molto bene, le frazioni improprie introducono il concetto di numeri misti che sarà poi oggetto di una delle prossime video lezioni. Ragazzi con questo è tutto, spero che la lezione sia stata chiara, vi invito a lasciare un like e arrivederci alla prossima video lezione. Ciao!